Ciao a tutti, sono Angelo Ghiani, sono istruttore della Pizza Italian Academy. Oggi vi presento la nostra pizza, trovandoci in Sardegna, sicuramente tutto a base di mare, quindi pozze, asselle, gamberetti, gamberoni e calamari. Noi questa pizza la chiamiamo mare fresco, la presentiamo rossa, perché in pratica, o in teoria, per meglio dire, la mozzarella non lega molto bene col pesce, però dei gusti, noi nel nostro locale la presentiamo rossa. Vado a lavorare, è un impasto che ha una maturazione di 48 ore. Stesura a mano. Grazie a tutti. Sono prodotti che vanno per l'esclusiva e più nel periodo estivo. E il più lì nella pizza più richiesta dai clienti, vengono lavorati tutti in padella con l'aglio e il prezzemolo per poi andare a guarnire la nostra pizza. Una volta ultimata la cottura, fuori cottura mettiamo una spolverata di bottarga di muggine. Per ultimare fuori cottura, una spruzzatina di bottarga di muggine, aglio e prezzemolo. con un filino di olio extravergine d'oliva e la pizza è pronta. Dalla Sardegna, ciao a tutti.